Il corso di studio in ingegneria elettronica e informatica è la laurea triennale della classe ingegneria dell'informazione. Nell'ambito di questo corso di studio i principali argomenti riguardano alcuni concetti di base della matematica e della fisica che sono propedeutici poi alle discipline più specifiche dell'area ingegneria informazione, quindi all'ingegneria dell'automazione, all'ingegneria elettronica, all'ingegneria informatica e all'ingegneria delle telecomunicazioni. Gli obiettivi del corso di studio sono appunto quelli di formare un tecnico laureato, quindi un laureato di primo livello che abbia delle competenze specifiche di questi quattro ambiti automazione, elettronica, informatica e telecomunicazioni. Gli sbocchi occupazionali sono nelle aziende di queste aree, quindi industrie dell'area automatica, aziende dell'area ICT, informatica e telecomunicazioni e dell'area elettronica. In particolare possiamo contare su un bacino di aziende anche in ambito regionale che operano in questi settori, quindi l'occupabilità al termine del percorso triannale è buona. È possibile anche dopo la laurea triannale proseguire gli studi focalizzandosi su percorsi di tipo magistrale. Noi abbiamo attivi presso il nostro Ateneo due corsi di studi magistrale, in particolare uno in ingegneria informatica e dell'automazione e un altro in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, che completano un po' il percorso curriculare attualmente progettato con tre anni triennali e due magistrali per figure professionali un pochino più avanzate. I servizi a disposizione degli studenti riguardano un po' il complesso delle ingegnerie, in particolare per il settore e per questa laurea triennale noi abbiamo dei laboratori didattici specifici per l'informatica, oggi siamo in uno di questi, per l'elettronica, ci sono laboratori un pochino più di ricerca per altre aree, abbiamo una biblioteca molto fornita, diverse sale studio, sono attivi per i diversi corsi e i diversi insegnamenti dei supporti, degli ausili alla formazione e allo studio che riguardano i progetti di tutorato, abbiamo la disponibilità di un manager didattico che si occupa dell'ausilio agli studenti nella redazione dei piani di studio e nel loro percorso curriculare, c'è un wifi attivo per tutti gli studenti all'interno delle aule e nelle zone studio e in più diciamo, poiché all'interno del percorso di studi ci sono, sono previsti sia delle attività di laboratorio sia delle attività di tirocini, abbiamo numerosi contatti con le aziende della zona in modo tale da poter far ospitare i nostri studenti che siano interessati a svolgere tirocini e tesi in una realtà azientale.